Ora veniamo ai lavori sulla pista ciclopedonale della Via Verde dei Trabocchi, rallentati in questi giorni dalle condizioni meteo, mentre a Punta d'Erci spunta il problema delle continue incursioni dei cinghiali che preoccupano gli operai dei cantieri e non solo. Su questo e tanto altro abbiamo un collegamento in diretta proprio da Punta d'Erci con i suoi ospiti, la nostra Anna Di Giorgio. Anna, a te. Sì Luca, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Punta d'Erci, a Vasto, nella riserva naturale di Punta d'Erci e le immagini splendide che ha girato con la sua telecamera Diego Martelli parlano davvero da sole. Un luogo incantevole che in questi giorni è oggetto anche di interesse da parte delle cronache per le numerose incursioni dei cinghiali che, come dicevi tu, preoccupano molto i residenti del posto, gli agricoltori ma anche gli automobilisti perché essendo una riserva naturale, insomma, evidentemente questi animali trovano campo libero e anche strade libere. Noi siamo in collegamento anche con noi, in questo momento, con l'assessore all'agricoltura e alla pesca del comune di Vasto, Anna Bosco, che è qui con me. Le notizie più recenti parlano di turisti che sono stati messi in fuga proprio dalla presenza di questi cinghiali con gli operatori turistici che lamentano oltre agli agricoltori, poi lo vedremo, danni ingenti, un po' a tutto il comprensorio. Cosa sta facendo il comune in tal senso? Sì, grazie della domanda. Come amministrazione rispetto a questo problema che è europeo e nazionale, innanzitutto ci tengo a dire che siamo vicini alle istanze dei cittadini, delle associazioni, degli imprenditori agricoli, di quanti stanno portando avanti e sollecitando gli organi competenti e preposti su questo problema. A nostra volta stiamo ricependo le segnalazioni e trasmettendoli agli organi preposti. Abbiamo la fortuna di avere un'area protetta così bella che è stato e è volano per il nostro turismo e proprio per la propria vocazione ad essere luogo di tutela paesaggistica e anche ambientale. Pertanto purtroppo si verificano anche episodi di operatori turistici che, avendo strutture adiacenti alla riserva, comunque in aree di rispetto della riserva, possono e sicuramente in questa fase stanno subendo maggiori danni rispetto al resto della città su questa problematica. L'appello che vogliamo fare è ovviamente quello di ringraziare le associazioni che ci danno una mano a tenere viva l'attenzione su questo argomento ma soprattutto che gli organi preposti, lo Stato centrale e le regioni diano un coordinamento, una risposta unitaria per i comuni perché la difficoltà che viviamo come comune è quella di anticiparci, forse anche improvvisarci risposte che non sono di nostra competenza e che soprattutto non potrebbero in qualche modo essere forvianti e disattendere la legge, i requisiti biologici e tutte le direttive che sull'argomento, essendo talmente complesso, bisogna rispettare. Come comune, certo, ci stiamo attivando per minimizzare gli effetti del fenomeno, una consapevolezza che non possiamo come amministrazione eradicarlo totalmente ma senz'altro mettendo in sicurezza le strade e segnalando i punti di attraversamento che sono già stati oggetto e causa di incidenti, sicuramente un primo passo per limitare il primo problema che è quello appunto dell'alto tasso di incidenti, il rischio di incidenti stradali su questo e stiamo valutando con la regione anche la possibilità di ricomporre anche l'equilibrio biologico di questa specie soprattutto nella riserva ma anche all'esterno della riserva stessa cercando di rispettare la legge quadro sulle riserve, tutta la normativa che pur essendo vetusta comunque ci impone delle procedure ben precise e coordinate. Invece a Michele Bosco che fa parte del comitato Terre di Punta Derci di Vasto volevo ritornare con lui sul discorso proprio di questa convivenza che diventa sempre più pericolosa, di questo fenomeno incontenibile. Voi avete avviato anche delle raccolte firme insieme ad altre associazioni. Cos'è che chiedete e cosa intendete fare? Fare noi rispettiamo la legge, noi siamo imprenditori agricoli, possiamo fare ben poco. Noi con la nostra raccolta firme abbiamo ricevuto il mandato dai cittadini e dagli imprenditori agricoli per rappresentare delle richieste. Chiaramente chiediamo l'uscita dal regime dei Minismis per quanto riguarda i risarcimento agricoli perché l'agricoltura è allo stremo e questa è l'ultima goccia che fa traboccare il vaso. Dopodiché chiederemo anche interventi sulla normativa della caccia modifica l'articolo alla legge 157 del 92 che necessariamente deve avere un ruolo chi sta a Roma per modificarlo e poi se sarà possibile la regione per la viabilità cercare di munirsi di una copertura assicurativa. Antonio Palombo, sempre del comitato Terre di Punta, D'Erci e Avvasto, i danni sono tanti e si moltiplicano e spesso non vengono risarciti totalmente questi danni? No, di solito ultimamente come l'amico Michele diceva prima circa il 20% dei danni vengono erogati agli agricoltori. Sicuramente con una polizia per quanto riguarda i danni agli autoveicoli e implementando ancora di più delle risorse per il settore agricolo sicuramente si cercherà di tamponare e c'è nello stretto, nel stretto tempo i problemi. Assessore Bosco, l'ultima domanda velocissima perché siamo fuori tempo massimo, per quanto riguarda invece la pista ciclabile, questo corridoio verde va avanti, che tempi ci sono? Sì, i lavori proseguono, si sta ultimando il tratto da Vassomarina a Vignola e presto inizierà anche la posa dell'asfalto. Ci dicono dalla provincia che entro agosto sicuramente i lavori verranno coltimate e quindi questa grande opera strategica di sviluppo sostenibile della nostra città finalmente verrà a compimento. Grazie, allora io ringrazio i miei ospiti. Luca ti restituisco la linea.